Ciao amici, con le sinistre amanti del Topolino, questo oggi vi parlo di un personaggio praticamente inesistente nel mondo perché soltanto in tre storie comparve di Jerry Siegel, l'autore di Superman, e del grandissimo Guido Scaledisegni. Guardiamo il tutto meglio assieme. E per parlare meglio di questo personaggio, come da titolo, ovvero il terribile giocattolaio, nonché Abelardo, questo è suo nome, bisogna andare dietro di quasi 50 anni, siamo alle 73 e c'è la prima storia in cui compare appunto questo tizio, questo strano personaggio che insieme ai paperi combinerà una serie di problemi, di inconvenienti. Ho tre albi però perché di fatto le storie sono scollegate fra loro, ma sono tre quelle in cui compare Abelardo. Tutte e tre divise in tre albi differenti in anni diversi, 63, 64 e 65. Tre albi secondo me che dovevano ancora conoscere il periodo d'oro in termini di vendite, ma che conoscevano il periodo migliore sicuramente, chissà in quanti ne fossero la corrente, in termini di collaboratori. A me piace sempre farlo perché, ripetita Juvent, insomma, fa sempre bene capire chi ci fosse in quel periodo storico. Apriamo il primo albo e lo possiamo tranquillamente notare. Collaboratori. A parte il direttore che è Mario Gentilini, Lisa Penna, Capelli, Marconi, Lo Staffa, Cristina, che sono solo alcuni dei nomi della redazione, i più importanti. I collaboratori chi erano? Sergio Asteriti, Gianpaolo Barosto, Giorgio Bordini, Luciano Bottaro, Nicolo Carosio, non so chi sia, ammetto, Carpi, Cavazzano, Kendi, Chiarchini, Cimino, Dalmasso, De Vita, sia padre che figlio, vi era ancora anche Pierlorenzo, Fanton, uno sceneggiatore, Gatti, gran disegnatore ma che purtroppo rimase secondo me in poca luce sul topolino, cioè ebbe tanti anni di vissuto nel fumetto ma non viene molto ricordato, ma mi piacque molto, Luciano Gatto, Michele Gazzarri, altro autore che vi dirò fra poco qualcosa, Gotta, Guido Martina, Pavese, Rebuffi, vi era ancora lui, Sargentini, Scala, Scarpa, Sigel e Silvan. Questi erano i collaboratori di queste annate. Potete ben capire il valore culturale. Io non voglio paragonare questi albi a quelli attuali perché farei un clamoroso errore, non ha senso, non si può fare, sono mondi totalmente differenti, chi ha oggi 60-70 anni purtroppo deve capire che i tempi passati sono per l'appunto passati, rimangono però indelebili nelle nostre memorie grazie ai nostri amati fumetti, questo ovviamente è giusto dirlo. Non voglio quindi fare paragoni, ma sarebbe bello avere testimonianze, in parte qualcuno già la ebbi nel corso di questa avventura su YouTube, di qualcuno che effettivamente vivette quei periodi e possa dire che effettivamente in quel periodo si viveva a livello editoriale decisamente meglio. Mi spiego. Passarono 50 anni circa, meglio 48-49 da questi albi. Eppure gli autori, i collaboratori che 50 anni fa c'erano, li sappiamo tutti a memoria, i collezionisti, i lettori, gli appassionati, anche gli occasionali secondo me, o comunque chi non legge Disney ma lo fa insieme ad altri fumetti, il 90% dei nomi appena citati li conosce perché sono maestri del fumetto e non solo Disney, poi in particolare Disney ma in generale di questa arte nel settore editoriale. Io mi chiedo, fra 50 anni, quindi nel 2070 circa, quanti di quelli attuali mi ricordo? Non lo so, così a memoria di impatto mi viene in mente Casti, Artibani, Freccero, Mastantuono, già devo un attimo pensarci, Perina, vabbè, Tolto Cavazzano che comunque fa parte della vecchissima generazione, Tolto Marco Rota che non è citato ma anche lui è un collaboratore del periodo, e chi mi ricordo di altro, onestamente già faccio fatica, Faraci, Pezzin che in realtà arriverà successivamente dopo, comunque in questi periodi, ecco, così a impatto non me ne vengono in mente perché le grandi storie sono coloro che le hanno realizzate negli anni 60, 70, 80 e 90. Quindi questo sicuramente è un commento a mio parere oggettivo, poi bisogna vedere, ecco, la domanda la pongo sul futuro perché effettivamente non lo posso sapere, non lo posso prevedere, perché il mondo cambierà talmente tanto che il fumetto probabilmente non ci sarà più e sarà solo un vago ricordo, però non lo so, io ho sempre avuto questa percezione che gli autori del secolo scorso verranno ricordati per forza di più di quelli attuali, ma anche perché quelli attuali inevitabilmente si rifanno a quelli passati. Tolto questo cappello super introduttivo c'è un autore di cui prima della storia voglio parlarvi perché secondo me anche lui meritevole di attenzione ed è Michele Gazzarri. Io ho lesso una storia recentemente, ovvero il topolino e il furto di topolinia, dove degli alieni particolari cercano di rapire la città, di proprio rapire l'intero sedimento della città. Ecco, anche Gazzarri, alla pari di Sigel, per quanto abbia un cognome che magari non a tutti faccia venire in mente qualcosa o qualche storia, perché non ristamparlo? E la risposta è molto semplice. Evidentemente non c'è lo spazio economico di marketing e di clientela che possa comprare il volume su Michele Gazzarri. E a questo mi chattacco con Jerry Siegel. Voi immaginatevi un albo, anche non solo per forza Disney, ma che sia edito da Panini Comics, che dica le più belle storie di Jerry Siegel. Oppure una serie di albi. Jerry Siegel, l'autore di Superman. Secondo me sarebbe molto spendibile. Immaginatevi, lui realizza ben 155 storie, non 3 o 4, come magari tantissimi altri autori del passato. Ben 155. Un volume non basterebbe, ma accontentiamoci di uno. E sarebbe bellissimo. Guido Scala. Chi è Guido Scala? Un autore dimenticato. Alla pari di Siegel. In realtà quest'ultimo viene ricordato da tanti altri, anche grazie a Superman. Ma nel mondo Disney siamo alla pari, secondo me. Alla pari di Gazzarri, alla pari di Chiarchini e di tanti altri nomi. Bottaro, secondo me, è il grandissimo dimenticato degli ultimi periodi. Che sia chiaro, io non intendo con dimenticato che non vi siano ristampe. Perché questa storia, per esempio, venne più ristampata anche in un grande classico di recente uscita nel 2019 di The Indax. Io intendo dimenticato, nel senso che ristampe di lusso non ne hanno mai avuti questi autori. Ormai il cartonato esiste da diversi anni. E tantomeno volumi dedicati. Io con questo intendo dimenticato. Poi anche Carpi, secondo me, lo è. Per quanto abbia ricevuto una sua storia via col vento, mi pare, in The Indax. Ma una non vuol dire niente. Carpi è un autore meraviglioso. Ecco, Gazzarri è colui di Sandopaper. Sandopaper lo ritengo una delle migliori storie Disney. Una delle stampa Deluxe Sandopaper mi potrebbe interessare. E farebbe bene al collezionista, al lettore interessato, all'appassionato. Totto questo cappello, super cappello, uno sproloquio quasi. Cominciamo con la storia. Una storia un po' particolare. Perché Jerry Siegel ci ha sempre abituato, per chi appunto ne ha letto qualcosa, a storie surreali, fantascientifiche. Forse perché è influenzato dal suo aver creato Superman. Nel primo numero, con copertina di Peregot, che tra l'altro faceva un po' eco a un problema che adesso è attuale, ma lo era già al tempo. Cioè, è sempre rimasto un problema. Ora però si ha una particolare attenzione a tutti questi problemi ambientali. Nel mio piccolo faccio il mio, però vai a vedere e a capire chi nel proprio grande non fa il suo. Perché purtroppo questo, secondo me, è la grande diatrima. Ma insomma, comunque, non voglio polemizzare. La storia inizia così, insomma. Le Giovani Marmotte e il terribile giocattolaio. Ecco, ho ancora una riflessione. Scusatemi, ma ho tante cose da dire. Secondo me le Giovani Marmotte sono tra i pochissimi contesti. Quindi intendono per contesto serie di storie con dei personaggi ben definiti. Come magari Dio Paperone con i nipotini che vanno all'avventura. Topolino insieme a Pippo, l'avventura gialla. Zio contro Rockerdack, lo Zio contro Amelia. Insomma, ci sono alcuni contesti. Oppure Zapoteche Marlin, nello spazio, nel tempo che girano qua e là. Che sono stati analizzati tantissimo. Come le Giovani Marmotte. Però purtroppo trovo sempre un difetto in esse. Ovvero che non c'è mai stato un antagonista, un villain, che abbia accompagnato nell'arco di tutti questi anni di vita le Giovani Marmotte. Mi spiego ancora meglio. Io non ricordo, e non vi so dire, eccetto questo perché l'ho appena letto e quindi ho fresca memoria, un antagonista concreto che rimanga sempre nelle storie di Giovani Marmotte. Non c'è il cuor di pietra, il Rockerdack, il Bassotto, o Amelia, o Gamba di Legno, o Macchia Nera, che girano intorno a Giovani Marmotte. No, solitamente gli antagonisti vanno e vengono. E questo per me è un grande difetto. Almeno per me che leggo. Perché non riesco a capire chi è il cattivo di un Giovani Marmotte. Non che debba esserci per forza, però secondo me quello creato a Jerry Seagal poteva essere sfruttato meglio. Non solo in tre storie, in tranne diverse, ma poteva essere meglio gestito. Poi disegni la fanda padrone, secondo me. Perché Guido Scala è un grande, ne parleremo fra poco. Anzi, verso la fine, perché prima voglio parlare della storia. Però questo nemico per me calza pennello con le Giovani Marmotte. Ma ve ne parlo proprio adesso. Insomma, vi è un'iniziativa da parte di noi dei sottoposti del Gran Mogol che vorrebbero che le Giovani Marmotte, non solo loro, non solo qui e qua, perché a volte si fa confusione le GM, non sono solo loro tre, ma è una serie di bambini e ragazzini. Insomma, tutte le GM sono chiamate a Radonata per cercare giocattoli non più usati, vecchi, tendenti all'essere buttato, per devolverli ai poveri. Di queste licepe iniziali. Ovviamente, questi qua vorrebbero vincere non solo per prestigio, ma anche perché in palio vi sono tante medaglie che al collo potrebbero vantare di possedere chi appunto riuscisse a trovare tanti giocattoli da liberare e da devolvere. Arriveranno da un tale del bambino, Walter De Valteroni, che era un riferimento allo zio, che però pur di devolverli decide di bruciarli. E qua vi fa capire l'egoismo di questo bambino. Insomma, non è per nulla facile, vi sono alcune vignette che lo dimostrano. Se non fosse improvvisamente, così regita la schede di Siegel, accadeva una cosa di imprevedibile. Un po' alla Siegel, perché lui mette questo elemento fantascientifico, surreale, irrealistico nelle storie. E lo ha fatto tantissime volte, forse in quasi tutte. Perché qui vedono in lontananza dei cavalli di plastica, palesemente si notano che non sono veri, ma sono fermi, solo che galoppano, cui, sopra di essi, vi sono dei cowboy altrettanto finti. Dei giocattoli parrebbero. E così sono. Ma che succede? Com'è possibile che di colpo, di punto in bianco, in mezzo al bosco, vi sono questi giocattoli che parlano, che trottano, che interagiscono col mondo? Sembra di vedere Toy Story. PS. Quest'ultimo citato è il mio film Disney preferito. Toy Story in realtà si fa un riferimento un po' diverso del giocattolo. Durante la notte l'umano in realtà non dovrebbe sapere nulla della sua vita, anche se nel quarto capitolo ci sono dei riferimenti. Però vabbè, con dei bambini piccoli, ma lasciamo stare. Però per me è Toy Story un grandissimo film, il migliore della Disney, anche se poi al tempo è la Pixar, che poi, in tutto ciò, è sempre Disney. E quindi questa storia forse mi ha coinvolto anche per questo riferimento al giocattolo. Poi i giocattoli chiunque l'hanno avuti. I bambini di oggi, secondo me, sempre meno, perché sono più affascinati da un dispositivo tecnologico, da una scatoletta con uno schermo luminoso, piuttosto che un soldatino, piuttosto che un action man, o una bambola, o un pezzo di Lego. Ecco, vabbè. Dunque, giocattoli che parlano. Ma che succede? I nipotini verranno anche rapiti da alcuni di essi e si ritroveranno irradiati da questo raggio rosso, prima giallo, poi rosso, e trasportati, o meglio, teletrasportati, in questo mondo. Parliamo di Giocattolandia, o meglio, il paese dei balocchi. E quindi qua un piccolo riferimento anche a un altro cult popolare. Che succede? Il re dei giocattoli, che il nome lo ignoro, ma penso vi fosse scritto, ha un problema, perché il suo scagnozzo, o meglio, il suo adepto, il suo aiutante, che era un tempo, si chiamava Abelardo, ed ecco qua appunto che arriva al terribile giocattolaio, che però ha deciso recentemente di allontanarsi dalla reggia per costruire un esercito meccanico di giocattoli e andare contro il proprio re per prendere la corona. Questa corona, che il re vanta di avere, non è solo un elemento di prestigio distintivo che ti eleva a essere il capo, ma è anche un oggetto che a quanto pare, non so se per magia o appunto per prestigio, rende chiunque obbediente davanti a sé e quindi Abelardo, possedendola, potrebbe mettere il proprio mondo, il mondo dei giocattoli, ai suoi piedi. E quindi ecco qua, che Abelardo, ora ve lo mostro, anche se secondo me graficamente migliora nelle prossime due storie, eccolo qua, diciamo che è uguale, ma poi nelle prossime due storie diventa col muso bianco, lo preferisco. Sul disegno mi soffermo dopo, ma già potete capire lo stile di Guido Scala, molto bottariano, per intenderci, ma c'è un motivo. E quindi l'avventura è dentro il Giocattolandia, tra i nipotini, l'esercito dei buoni, contro quello dei cattivi, meccanico di Abelardo. Ovviamente chi vincerà? I nipotini, ma non così facilmente, perché comunque dovranno vedersela con uno, questo mondo non così facile. Ah ecco, già cambia nella prima storia il muso di Abelardo, oppure probabilmente si parla, no, perché per un attimo come se fosse il flashback, ma mi pare che poi sarà così sempre bianco di muso e non rosa. Comunque, non sarà così semplice, non solo per il mondo e per il contesto nuovo e quindi un po' surreale, quasi da sogno, ma anche perché questa Abelardo è molto forte con questi giocattoli da lui creati, oltre ad essere intelligente in averle creati, cerca veramente di distruggere qualsiasi cosa. Vi è un letto fine, ovviamente i nipotini riusciranno a batterli e in compenso riceveranno una marea di giocattoli da parte del re così che da poter fare bella figura e guadagnare una marea di medaglie. Eccole qua. Ho aperto poco gli albi perché, non lo so, sono comunque molto compatti, ma aprendoli ho avuto una sensazione un po' di fragilità e quindi io quando leggo ovviamente sto un pochino meglio comodo alla lettura, ma durante il video mi rendo conto che magari avete visto male. L'anno successivo uscì la seconda storia scollegata dalla prima ma comunque fa sempre piacere anche per un riferimento aver letto appunto la prima avventura. La seconda è sempre di Siga e Scala così come la terza compare mi pare come ultima anzi come penultima o forse sì come ultima e abbiamo ecco qua l'ennesima apparizione di Abelardo in Giovani Marmotte e il ritorno del giocattolaio. Si presenta Carlo Jones nonché Fabio dei giocattoli ma in realtà non è altro sono mette spoglie appunto Abelardo eccolo qui disegni scusate devo soffermarmi ora spettacolari perché Guido Scala mi piace così tanto perché si rifà Bottaro io non so Scala come nasce a livello di disegno ma inevitabilmente venne influenzato da Bottaro perché facente parte anche lui dello studio BRC famoso studio in cui i capi fondatori furono Bottaro Rebuffi Candy BRC però in realtà poi si allargarono anche come vedute a Colantuoni a appunto Guido Scala a Mario Luisa Oggetti mi pare anche Marciante per quanto poi non stia sul suddise non è già mai stato ma insomma era uno studio affermato di Rapallo che tuttora ha qualche erede non proprio di Rapallo ma Genovese ecco la scuola Genovese fa il palio con quella veneziana per intenderci o comunque Ligure e quindi Guido Scala a me piace molto perché si rifà Luciano Bottaro da questi disegni io evinco questo ma che spettacolo di tavole Bottaro aveva un tratto perfetto pulito dettagliato molto colorato che poi non era che lui colorava però molto dettagliato a tal punto di mettere tanti colori io questo intendo cioè dava l'idea che i colori fossero tanti perché lui di fatto metteva tanti dettagli e quindi andavano colorate molte parti del suo disegno in maniera diversa e questo è il risultato Guido Scala io lo trovo un Bottaro 2 ma per questo mi piace molto moltissimo a parte questo redazionale che è un po' faticoso anche alla lettura che spettacolo ma i disegni migliori arriveranno alla terza parte secondo me e dunque perché torna il giocattolaio è molto semplice perché Archimede grazie a lui torneranno appunto in base dei balocchi per ricercare il giocattolaio ovvero Abelardo e poterlo nuovamente sconfiggere in estrema sintesi Archimede in questa parte fa la sua conoscenza per la prima volta di questo mondo anche se inizialmente non ci crede così come il poliziotto così come Dio Paperone insomma è difficile che è una cosa del genere anche Gramogol fa fatica ma poi dovrà ricredersi perché Abelardo spunterà e riuscirà inizialmente ad essere arrestato dalla polizia ma poi senza dover chiedere permesso scapperà nel mondo dei balocchi Archimede sarà fondamentale perché riuscirà a creare quel vortice famoso rosso che li teletrasporta appunto nel mondo dei balocchi nel mondo dei giocattoli per poter sconfiggere nuovamente Abelardo per qualche tratto di avventura Abelardo è riuscito anche a rubare la corona ma nulla è successo di ciò ecco qua anche l'apparizione è la prima in cui lo zio nota Abelardo ma Dio Paperone non preoccupatevi perché sarà protagonista nella prossima avventura per me è anche la più carina delle tre via ovviamente l'ennesimo lieto fine in cui i nipotini si lasciano alle spalle Abelardo sperando di farlo per sempre ma colpo di scena torna l'anno dopo nel 75 ancora Siegel ancora Scala in questo caso la storia è la prima d'apertura il giocattolaio provocato questa è la più bella perché qui via anche lo zio e dove c'è Zio Paperone c'è sempre quel tocco di creatività per lo meno con grandi autori come Siegel che rendono la storia ancora più particolare lui ha tante industrie e fabbriche di giocattoli ma deve ora trovare un modo per creare qualcosa di nuovo come fa? grazie ai nipotini che tempo fa dissero a lui che vi fosse questo mondo dei balocchi va insieme a loro insieme ad Archimede con il classico meccanico in teletrasporto per capire di più i nuovi giocattoli di moda e per poter importare anche nuove idee se non fosse che il re è malato e per farlo guarire bisogna che sorrida per farlo sorridere però non basta darsi un colpo in testa come provare Archimede o fare delle facce buffe ma sarà solo lo zio arrabbiandosi paradossalmente a renderlo sorridente per sdebitarsi il re arriverà ovviamente a dare in credito e in pasto allo zio tutto quello che vuol sapere anche a livello materiale proprio di questo mondo dei balocchi provando per esempio i famosi pattini che riescono a stare anche anti-gravità praticamente e utilizzarli nel soffitto eccoli qua Guido Scala riesce perfettamente a dare quel tocco di movimento che a me piace molto cosa però accade quando Paperonia arriva a creare addirittura una società ovvero Paperonia purtroppo crea l'ira di Abelardo perché lo zio già lo conosceva inizialmente aveva creato un palloncino dove per sfogarsi lo zio arriva a distruggere quindi con la faccia di Abelardo e questo da lontano con un cannocchiare il nostro amato antagonista lo vede però lascia stare dice vabbè è una furbata lasciamo stare se non che poi lo zio continua a provocare e da questo è il titolo della storia di Ocato Provocato appunto Abelardo sparando dei manichini si mangia lui al che non ci vede più e irrompe nella scena quindi terza sua ufficiale apparizione ma in tutta la storia perlomeno da questo momento in poi lo zio e Archimede se la ridono il lettore non capisce io non capivo lo motivo neanche i nipotini perché se la ride perché effettivamente lo zio ha visto in questi strani mostri elettronici meccanici cattivi ma comunque particolari qualcosa di nuovo e quindi cosa fa? dice ad Abelardo lo zio senti finiamola qua io ti chiedo scusa quello che vuoi ma cerchiamo di trovare un accordo tu insieme a me potrai diventare molto ricco firmando questo accordo con una classica percentuale a favore dello zio seppur indirettamente questo non si riesce a capire ma lo zio è furbo in cambio se però mi dai la possibilità di produrre i tuoi giocattoli nel mio mondo Abelardo accetta e questo è un grande letto fine perché ovviamente lo zio può tornare a Paperopoli con delle novità editoriali delle novità di giocattoli che ha visto proprio nel paese dei balocchi grandiosa storia grandioso personaggio che ovviamente non mi aspetto che torni sarebbe bello ma secondo me alcuni personaggi sono fatti per esistere solo in certe annate con certi autori quindi è giusto così anche perché non ha avuto un grande successo a quanto pare visto che non tornò più se non in queste tre annate degli anni 70 quindi parliamo quasi 50 anni fa è chiaro che queste storie vengono ristampate ma perché no una deluxe qua ci starebbe ma il problema è chi se la comprerebbe Zio Alella prenderebbe chi guarda questo video forse affascinato anche ma saremo in 300-400 Panini Comics probabilmente spererebbe in almeno non dico due ma forse anche 3000 vendite ecco quindi no però peccato peccato perché per la politica attuale di Panini che si affaccia al collezionista si interfaccia con chi comunque caccia il grano perché la verità è questa non portare certe perle in deluxe a me dispiace però mi rendo conto oggettivamente che non sono spendibili ecco l'ultima menzione per fare una piccola chiosa è proprio sugli autori lo ripeto Jerry Siegel Guido Scala Asteriti anche si ricevette un volume ma poca roba Chierchini Luciano Bottaro Carlo Candy Michele Gazzarri Andrea Fanton sono tutti autori al disegno o alla caneggiatura che meritano un'omnia no un'omnia no magari scusate flusso di coscienza ho parlato ad alta voce meritano un volume un volume dedicato non mi aspetto un'omnia questo era al me della mente che parlava non mi aspetto un'omnia ma mi aspetto un volume dedicato perché non sarebbe male se si vuole se si vuole se si vuole davvero riscoprire con gusto con passione con ricerca con interesse autori del passato dopo i Evergreen Cavazzano De Vita Pezzin Marco Rota che sicuramente importantissimi ma lasciamo spazio anche ad altri sicuramente anche vendibili sotto profilo economico perché no portare questi autori un volume tra l'altro sarebbe curato facendosi anche di farlo conoscere far conoscere l'autore al cliente perché io penso che chi guarda il video in pochissimi ricordano Michele Gazzarri in pochissimi ricordano Guido Scala Tiberio Colantoni non ne parliamo perché è un autore a mio parere molto bravo ma compare pochissimo su Topolino ma quando compare io ho sempre gradito mi piacerebbe un volume sul studio BRC cioè le migliori storie prodotte in quello studio o comunque degli eredi di quello studio chi si interfacciò sarebbe bellissimo sto sognando perdonerete questo non è un sfogo ma è un parlare così a voce alta dovrei sbigliare con questi pensieri dovete nemmeno per me ma visto che un canale lo condivido però mi rendo conto della situazione accontentiamoci tra virgolette degli evergreen perché sono quelli che riescono ad essere venduti ed avere forse un ritorno economico ci ho detto io vi invito a leggere questi albi vi invito a guardare su index per poterle trovare queste storie che sono scollegate fra loro ma come se fossero collegate perché si possono leggere comunque l'una scollegata all'altra ma per capire meglio il tutto ci sono anche dei riferimenti dei flashback sì ma bisognerebbe leggere tutte le tre sono tre albi comunque non da collezione cioè le mie copie sono molto buone materialmente non intendo quello in particolare questo che sembra un'anastatica tra l'altro per come luccica la cover per come è mattonella la costina ma tra l'altro questo è un valore collezionistico molto basso ma culturalmente è un valore inestimabile anche perché non l'ho messo ma in questi albi compare Cimino compare Marconi lo staffa guarda in Dax compare Giancarlo Gatti l'autore che mi piace molto compare Fantone il peronizio di vita e sono in questi tre albi oltre Sighele e Scala poi Paul Murri Tony Strobl Paul Murri altro grandissimo autore però vabbè non dilunghiamoci vi ringrazio vi saluto e alla prossima ciao ciao